Sta ottenendo molteplici apprezzamenti la mostra personale stilla dell'artista eugubina Antonella Capponi, curata dallo storico dell'arte curatore Ivana D'Agostino, visitabile fino al 20 settembre nella sala polivalente del MAC Guarcino, museo d'arte contemporanea del piccolo formato in provincia di Frosinone. Antonella Capponi ha sempre lavorato sullo spazio, la luce e la trasparenza fin dagli anni accademici esponendo in significative mostre in Italia e all'estero. Dalla fine degli anni Ottanta procede poi coerentemente con la sua ricerca artistica. La strazione lirica è costante nelle sue opere per le quali essenziali sono trasparenza, luce, colore e spazio. Non manca mai tuttavia un pensiero forte intrinseco nelle opere, un'autentica dichiarazione di poetica. La nuova installazione di Antonella Capponi, spiega Ivana D'Agostino, diventa un microsistema di lacrime ed individua nel pianto costituito dalle tante lacrime versate all'umanità, stille per l'appunto non necessariamente un segno di fragilità umana, quanto piuttosto l'espressione tangibile di un dolore come anche di una grande gioia. Circa 150 di diversa grandezza sono le gocce trasparenti in plexiglass di colore variabile, dall'azzurro intenso al verde acqua, dal blu all'oro, poste su una parete a simulare lo sgorgare di un pianto, liberatore e sacrale, con cui l'essere umano comunica emotivamente al mondo un suo stato d'animo forte. Stilla, ha detto Antonella Capponi, credo che possa appartenere a tutti, perché si nasce con un pianto ma poi nella vita ci sono piante di gioia ma anche tanti di dolore. E da questo pianto nasce la gioia, perché dal dolore poi si risorge e da qui nascono le cosiddette lacrime d'oro. Uno stato d'animo che non è sinonimo di fragilità, quanto l'esternazione di un sentimento che è di tutti, perché si piange in silenzio ma si piange anche di gioia tutti insieme.